Buonasera e ben ritrovati a Vita di Atleta. Ho il piacere di ospitare quest'oggi un campione olimpico. Si tratta di Stefano Donagrandi, campione olimpico a Torino 2006 nella gara ad inseguimento a squadre. Parliamo di patinaggio di velocità sul ghiaccio. Stefano. Buonasera. Buonasera. È un piacere rivederti. Non ci vediamo da qualche anno. Siamo stati compagni di club nella Bormio Ghiaccio per diversi anni. Poi tu hai intrapreso un'altra attività, quella della pista lunga. Ti sei trasferito in Olanda. Per qualche settimana sei tornato a casa in vacanza e veramente con grosso piacere ho l'occasione di parlare un po' di te. Stefano, cosa dire? Campione olimpico è un titolo che rimane nella storia a distanza di 12 anni, perché era Torino 2006. Che effetto ti fa? Fa sempre piacere riguardare le gare, ripensare a tutto il trascorso d'atleta, le sofferenze, le fatiche che poi sono state finalmente ripagate a Torino 2006. Dici bene Stefano, una carriera la tua costellata purtroppo da qualche infortunio di troppo, ma poi ne riparliamo. Partiamo dall'inizio. Partiamo da quando eri un baby pattinatore. Ce lo racconti? Sì, io ho iniziato relativamente tardi a patinare su ghiaccio. All'inizio ho fatto un po' di corsa, poi sci di fondo. Poi sono approdato al ghiaccio dopo un corso di avviamento. Avevo patinato un paio di volte nel campetto dietro casa, avevamo ghiacciato un prato e ci divertivamo là a giocare un po' a hockey e patinare un po'. Mi piaceva, ho fatto questo corso di avviamento e lì è nato, è sbocciato l'amore per il ghiaccio e da lì mi sono iscritto alla Bormio Ghiaccio, tra cui un'allenatrice della Bormio Ghiaccio è qua di fronte a me. Da lì pian pianino, passo dopo passo, ho migliorato nello short track. Poi si facevano a quei tempi tutte e due le discipline, short track e pista lunga. Mi sono trovato a mio agio molto di più nella pista lunga, essendo alto e magro, nello short track avevo qualche difficoltà e da lì ho continuato la pista lunga. Fino a che età Stefano eri nello short track? Io ho iniziato a 11 anni e fino ai 15-16 anni ho fatto un po' tutte e due. Dai 16 anni in poi ho preso un po' la via della pista lunga esclusivamente. Che non era una cosa facile Stefano, lo ricordo. A Bormio non c'era una struttura adeguata per la pista lunga, ci si allenava dunque sulla pista di short track girando il più largo possibile con i pattini da pista lunga, quindi materiali sostanzialmente diversi. Ci introduci appunto la diversità del pattino da short track e da pista lunga? Diciamo il pattino da short track è una scarpa molto più rigida, alta, con delle lame che soprattutto consentono con una piegatura e un'imbarcatura, consentono di fare raggi di curva molto stretti, sono 8-9 metri, cosa che in pista lunga non è necessaria perché l'anello è di 400 metri, diciamo come una pista di atletica dove i raggi di curva sono di 30 metri, 25-30 metri, quindi non serve questa possibilità di curvare. Quindi con un pattino da pista lunga nell'anello di short track era molto difficile poter rimanere all'interno della pista e poter spingere però si faceva fino a una certa età, era possibile farlo. Quindi sostanzialmente una pista di short track lunga 111 metri, quella da pista lunga è 400 metri, le lame, anche la lunghezza delle lame varia, una 44 cm per gli uomini nello short track mentre nella pista lunga la lama è lunga? Restano più corte, sul 42 cm per i maschi, diciamo, in base anche al numero di piede, però hanno diciamo un'imbarcatura, diciamo la lama non è piatta ma ha un raggio di curvatura per consentire il poter guidare le lame, di, diciamo, in media dal 20 al 24 metri, mentre per lo short track non è regolare però si va dai 8 ai 12 metri. Quindi lame più piatti per la pista lunga, anche se più corte rispetto allo short track. Anche se più corte, esatto. Questa è una curiosità che non sapevo nemmeno io. Parliamo dopo dell'innovazione nella specialità dei pattini, i famosi club. Torniamo alla tua carriera. Quindi a un certo punto hai detto, ma visto le mie caratteristiche tecniche mi trovo meglio a fare pista lunga, mi vado a pratico la pista lunga, però insomma non c'era la possibilità. Quindi come facevi ad allenarti, visto che la pista Bormio non era quella della pista lunga, com'è fatto a trasferirti nel mondo della pista lunga? Per fortuna c'era qualche atleta di Bormio che ha più portato anche per la pista lunga e con lui, diciamo Andrea De Lorenzi, viaggiavamo dal giovedì sera o il venerdì, si andava sulla pista di Baselga di Pinè che sta a tre ore di macchina da Bormio. Ci si allenava il giovedì o il venerdì e si faceva legare il sabato e la domenica, poi si rientrava a casa e poi lunedì scuola e avanti così. Abbiamo fatto un po' la vita da pendolare, diciamo, nell'inverno. Eravate gli unici, presumo, della specialità a fare questo tipo di attività? Sì, poi dopo qualche anno Andrea De Lorenzi ha smesso e ho continuato da solo, o con i mezzi pubblici, alle volte, poi quando finalmente ho fatto la patente ai 18 anni allora potevo viaggiare avanti e indietro da solo. Ovviamente frequentavi le scuole superiori, dove? Che scuole frequentate? Ho fatto tre anni in Val Furva e poi ho fatto il quarto, il quinto anno a Tirano. Quale scuola? Tecnico Industrie Meccaniche. Ah, ok, quindi studio, pattinaggio, trasferte, trasferimenti, una vita abbastanza fulla, però... Sì, però alla fine quando si ha un obiettivo si riesce a combinare le varie cose della vita, lo studio, lo sport. Ok, dopodiché la svolta, insomma, cominciavi ad avere anche determinati risultati nella pista lunga e ti sarai trasferito, presumo? Non mi sono trasferito ufficialmente, però con la covocazione, prima in squadra juniores, nazionale e poi in squadra senior, si facevano tanti raduni a Baselga di Pinè, quindi si stava in albergo là, pagati insomma dalla federazione, che ci consentiva in questo modo di poterci allenare costantemente sulla pista di Baselga di Pinè. Di Baselga, quindi... Quindi non mi sono trasferito ufficialmente, però praticamente i padroni dell'albergo sono diventati la mia seconda famiglia, passando tutti gli inverni da loro. Un passaggio importante tra lo short track e la pista lunga, perché sono discipline cugine, ma in verità non c'è molto... non si assomigliano proprio molto, soprattutto a livello tecnico, soprattutto a livello di impegno per ciò che riguarda i muscoli delle gambe. Certo, è un impegno diverso, sia a livello tecnico, ma io vedo anche la differenza molto anche a livello di mentalità e di come è fatta la gara. Lo short track è molto più contro l'avversario e si accettano anche, diciamo, quei piccoli imprevisti che possono accadere durante una tipica gara di short track, contatti, eccetera, mentre per la pista lunga si è da soli sulla tua corsia, si corre contro un avversario che però è il tempo che conta, non conta vincere contro l'avversario e da lì un po' la ricerca di trovare il proprio limite, il proprio tempo limite, vedere dove si arriva, diciamo, a livello mondiale o a livello olimpico. Preparazione diversa, ma senza nulla togliere allo sforzo dello short track, perché sono proprio due sforzi diversi, più esplosività nello short track e più resistenza ovviamente nella pista lunga, però anche i metodi di allenamento, i carichi sono diversi. Sono diversi anche perché le distanze alcune sì sono uguali, ma altre come noi abbiamo i 5.000 metri, i 10.000 metri e non è uno sport fatto a turni, quindi si fa quella distanza una volta e bisogna dare il massimo e distribuire le proprie energie nell'arco dei 5 chilometri, dei 10 chilometri o nei 1.500 metri. Mentre nello short track sono più prove ripetute, quindi bisogna essere anche capaci di avere un buon recupero e poter gestire la gara in base anche alle situazioni che si vengono a creare con gli avversari. Certo. Quindi un po' a livello tecnico diverso, quindi da noi serve molto più forse condizione e capacità di soffrire l'acido lattico, mentre nello short track è più capacità di recuperare rapidamente e di avere una buona esplosività per poter sorpassare e vincere la batteria o la semifinale o la finale. Certo, avviciniamoci pian piano a quello del 2006, quel giorno in cui a Torino l'Italia vinse l'oro nell'inseguimento a squadre. Eri ovviamente in nazionale da qualche anno, circuiti di Coppa del Mondo, campionati del mondo, ricordiamo nella pista lunga anche tutti gli anni si svolgono i campionati del mondo, una squadra italiana che aveva le carte in regola per vincere comunque una medaglia olimpica perché arrivavate da diverse vittorie già in Coppa del Mondo. Sì, diciamo che come squadra italiana siamo stati i primi a credere quando è stato introdotta l'inseguimento a squadre, siamo stati i primi a credere in questa disciplina, anche aiutati dal fatto che noi rispetto ad altre nazioni ci allenavamo sempre assieme, pur essendo uno sport individuale, ci allenavamo sempre in gruppo e sempre con metodologia molto affine all'inseguimento a squadre. Determinati allenamenti erano molto simili a un inseguimento a squadre, quindi ci ha facilitati nei primi tempi, ma siamo cresciuti negli anni e abbiamo avuto, sì, insomma, buoni risultati negli anni, nei quattro anni antecedenti alle Olimpiadi di Torino. In seguimento a squadre, quanti giri a testa, quanto è lunga la distanza, insomma, ce lo introduci leggermente? La pista di 400 metri, la gara si svolge sugli otto giri e si corre in tre atleti per squadra, normalmente si corre una squadra a parte a metà del rettilineo da una parte e l'altra squadra dall'altra parte, si parte tutti assieme e chi arriva prima, diciamo, negli otto giri, passa il turno, in questo caso per le Olimpiadi, mentre per la Coppa del Mondo, chi fa il tempo migliore vince la Coppa del Mondo, semplicemente, mentre per le Olimpiadi era distribuito in quattro turni. Quindi, gara sull'uomo alle Olimpiadi rispetto al resto dei format, beh, bisogna avere anche una certa predisposizione tattica per voi che, appunto, come dicevi tu, non fate delle gare sull'uomo. Quindi era un qualcosa di nuovo. Primo turno olimpico a Torino 2006, nel terzetto, vi era schierato anche Stefano Donagrandi. Al fianco di? Di Polito Sanfratello e Enrico Fabris. Quindi, qualificazione naturalmente ottenuta, facile? Sì, diciamo che il primo turno era importante per determinare poi il ranking per le combinazioni, per i quarti di finale, i semifinali e poi la finale. Finita la gara però, un piccolo... Un piccolo infortunio, tanto per cambiare, un piccolo stiramento al vasto mediale, che mi ha compromesso un po', diciamo, gli altri turni di gara. Era previsto comunque uno scambio tra atleti, essendo quattro turni molto pesanti da fare solo in tre, la possibilità di tutte le nazioni di schierare cinque atleti. Purtroppo noi eravamo solo in quattro, non c'era un quinto atleta dello stesso livello. E quindi avevamo qualche difficoltà a intercambiarci, però comunque in quattro potevamo un attimino giocare sulla distribuzione delle energie. Quindi era previsto per il quarto di finale che ci fosse stato questo scambio. E avendo avuto l'infortunio, sono stato io quello che è rimasto fuori, diciamo, dal terzetto. Per il semifinale, poi in previsione delle semifinali e finali che avvenivano dopo un paio di giorni. Certo. Sei poi riuscito a disputare la semifinale? Oppure l'infortuna ti ha tenuto fuori? Lavorato con il fisioterapista, provato un po' sulla pista. Avevo ancora un po' di fastidio che mi ha dato un po' di noie e non volevo compromettere, diciamo, la semifinale. Quindi si è deciso che partiva l'altro terzetto con Matteo Anesi e Fabris e San Fratello, per poi eventualmente vedere per la finale, schierarmi in finale. La semifinale è andata benissimo, hanno passato il turno finale, qualificazione per la finale. Io avevo ancora un po' di fastidio e ci siamo chiusi nello spogliatoio con l'allenatore. Abbiamo parlato, penso per mezz'ora, sul fatto di chi schierare per la finale. Io onestamente, avendo questo fastidio, avevo paura anche di avere problemi in partenza e compromettere la gara anche degli altri. Quindi alla fine si è optato per non correre la finale. E comunque, per fortuna, questa decisione ha portato a... Comunque, male che andava, sapevi che un argento l'avresti avuto al collo anche tu, perché alla fine il partecipante che viene schierato anche solo ad un turno riceverà poi la medaglia. Certo, è stata una sofferenza e grazie anche al tuo buonsenso ed anche alla tua schiettezza che ti sei fatto da parte per il bene della squadra. Però comunque alla fine è una gioia immensa e indescrivibile. Dove seguivi la gara, Stefano? Da quella finale? All'interno pista, saltando e guardando gli avversari, controllando e incitando i miei compagni. E poi la gioia, diciamo, della vittoria è stata una cosa unica. La finale contro? Contro il Canada, che fino a metà gara, quindi dopo i quattro giri, ci stanno andando molto filo da torcere. Poi affaticati anche loro dai vari turni, hanno fatto qualche errore e poi diciamo gli ultimi giri è stato più un controllo per rimanere in piedi e portare a casa la vittoria. Certo che l'Italia era trainata da quel fantastico Enrico Fabris che ha fatto un po' la differenza giustamente, però poi correre in casa c'erano tutti i presupposti per fare bene ed è arrivato questo risultato. Certo, abbiamo avuto un'extra motivazione da parte del pubblico. Poi Enrico che navigava sull'onda delle sue medaglie, sulla sua prima medaglia dei 5.000 metri, poi con l'oro dei 1.500. Veramente navigavamo in uno stato di concentrazione, di motivazione che è incredibile. Certo, ero presente a quella finale, ho ancora i brividi adesso a pensarci, ma ero veramente felice perché conoscevo la tua storia fatta di tanti infortuni ed era veramente il coronamento di una carriera fatta di tenacia, perseveranza e di tanti sacrifici. Insomma Stefano, abbiamo citato più volte durante questa puntata dei tuoi infortuni, aprici il quadro clinico. Abbiamo due o tre ore di tempo. No, un po' meno. No, riassumendo, diciamo che non sono mai riuscito a concludere un ciclo olimpico senza qualche problemi fisici. Ho avuto problemi al ginocchio, sono stato operato in un ginocchio. vari piccoli infortuni che non mi hanno mai permesso di veramente trovare insomma il mio limite fisico. Il limite fisico era più dovuto a questi infortuni che non mi hanno mai aiutato. però avevo il mio obiettivo in testa di poter vincere una medaglia alle Olimpiadi e da lì mi sono sempre rialzato e combattuto per questo obiettivo. L'infortunio più grosso è stato l'infortunio alla schiena, proprio l'anno olimpico insomma. Quella primavera del 2005, quindi è subito anche un intervento chirurgico per delle protrusioni, per delle ernie. Sì, un'ernia espulsa che andava a premere sul nervo sciattico il quale non mi permetteva neanche di camminare per cinque minuti senza dolore. Quindi da lì la scelta di operarmi il prima possibile e tentare una riabilitazione e poi recuperare per poi allenarmi per le Olimpiadi. Insomma, al termine di diverse vicissitudine questa medaglia olimpica ti ha ripagato davvero di tutto. Dopodiché la tua carriera è proseguita ancora per lungo? Io ho fatto ancora una stagione, però avendo comunque questi problemi fisici, soprattutto la schiena, ha continuato a darmi un po' di noie. Sapendo che, potendomi allenare al 100%, sicuramente non avrei raggiunto gli ulteriori obiettivi. Ha pagato anche un po' dalla medaglia olimpica, sapendo che è molto difficile in campo anche individuale raggiungere i podi. Da lì, dopo l'ultimo infortunio ai campionati europei l'anno successivo, nel 2007, avendo qualche ulteriori problemi fisici, da lì la decisione di concludere la mia carriera e prendere altre strade. Certo, altre strade però sempre legate al mondo del pattinaggio. Ricordiamo che nel frattempo eri stato ruolato nelle fiamme oro, quindi una certa sicurezza sul piano economico e un termine carriera per quanto riguarda l'agonismo, ma poi porte aperte di nuovo sempre nella specialità. Sì, certo. Sicuramente io dagli 11 anni ai 18 ho fatto le gare per la Bormio Ghiaccio, che mi ha aiutato e mi ha fatto crescere come atleta. Da lì il passaggio poi alle fiamme oro, alla Polizia di Stato, il quale mi ha dato anche la sicurezza economica e la possibilità di fare questo sport a livello professionistico, quindi di poter gareggiare ad alto livello e potermi allenare esclusivamente. Dopo la mia carriera da atleta, la Polizia mi ha anche aiutato a fare i corsi per diventare allenatore, dal cui ho iniziato come allenatore fiamme oro, allenatore della squadra juniore, se poi assistente della squadra senior, della nazionale senior, e poi un paio d'anni come allenatore della squadra senior, per poi passare per motivi di cuore, diciamo, a trasferirmi in Olanda. Vicino ad Amsterdam, perché quella che poi è diventata tua moglie era un'ex patinatrice olandese? Sì, un'ex patinatrice conosciuta sulle piste di ghiaccio, da lì è nato l'amore, una relazione a distanza che poi si è conclusa con il matrimonio e adesso un bimbo di quasi tre anni. E' Manuel. E' Manuel, sì. E che cosa fai Stefano ora in Olanda? Io continuo con la mia carriera da allenatore, su alleno una squadra, un centro regionale di talenti olandesi, per poi portarli all'alto livello e a competere, diciamo, per i campionati mondiali juniore, su Coppa del Mondo juniore. Beh, ma è stato facile riuscire ad introdursi in questo mondo del patinaggio olandese? Sappiamo in Olanda è lo sport numero... Era il numero uno e adesso credo sia diventato lo sport numero due dopo il calcio. Però è lo sport nazionale del patinaggio. Sì, diciamo che l'estate è calcio, l'inverno è patinaggio in Olanda. Come hai fatto ad entrare negli organigrammi federali quando, insomma, a specialità numero uno ci saranno stati tanti tecnici eppure sei riuscito ad introdurre? No, questo è un motivo di orgoglio, il fatto che è stato riconosciuto quello che ho fatto in Italia. Il primo anno ero in una squadra, diciamo, commerciale, un team commerciale, a livello professionistico, che mi ha scelto e lì mi ha dato anche un'ulteriore motivazione sul fatto di poter essere riconosciuto, diciamo, il valore da tecnico. Quindi squadra commerciale, un po' come il ciclismo, un team composto da atleti professionisti, quindi di una certa età. Poi invece? Poi invece, diciamo, la crisi economica si è fatta sentire anche un po' in Olanda. Molti sponsor hanno abbandonato il pattinaggio, tra cui quello della mia squadra. E da lì la scelta di optare per un lavoro più connesso con i giovani talenti e connesso con la federazione olandese, la quale ha riconosciuto il mio curriculum e mi ha dato la possibilità di allenare uno dei sei centri regionali che ci sono in Olanda. Mi accennavi dunque che ultimamente anche la federazione olandese non se la passa al meglio, ovvero non ci sono più quegli interessi mediatici legati agli sponsor che c'erano una volta, però c'è un aiuto che proviene dalla nazione. Mi hai detto una cosa davvero molto bella e se me la ripeti. Sì, in Olanda tutti gli sport sono finanziati in parte anche dalle lotterie nazionali e vari concorsi, diciamo, enalotto, super enalotto, per fare un paragone in Italia, il quale dà finanziariamente un grosso aiuto al Comitato Olimpico e di conseguenza alle varie federazioni. Un'altra connessione anche che comunque lo Stato supporta lo sport in maniera anche molto decisiva. Quindi insomma sì, i giovani sportivi in Olanda sono supportati alla grande. Sono supportati e c'è comunque una visione a lungo termine che magari manca in altre nazioni. anche in Italia si coltiva il talento del momento ma non si guarda alle giovani promesse a aiutare le società che hanno sicuramente qualche difficoltà economica e diciamo che vanno avanti esclusivamente basati sul volontariato di persone che hanno la passione per questo sport e portano avanti per fortuna gli atleti, i giovani atleti li portano comunque ad ottenere medaglie come si è visto per lo short track. Certo. Anche a livello scolastico i ragazzi sono supportati? Sì, diciamo che ci sono molte scuole collegate con il livello sportivo ma anche le normali scuole ottenendo gli atleti di un certo livello uno status di atleta semiprofessionista o professionistico hanno la possibilità di gestire le proprie lezioni, di gestire i propri esami in maniera da collimare lo sport e la scuola. Quindi qualsiasi percorso, diciamo, studentesco o universitario è aiutato dallo Stato che dà questo status all'atleta di poter combinare le due cose. Si vive bene in Olanda? Torneresti in Italia? Ovviamente, però è contro, però l'Olanda mi piace tanto ovviamente mi mancano un po' le montagne nostre però diciamo la maggior differenza secondo me c'è molta più meritocrazia in Olanda cosa che in Italia purtroppo su tante cose c'è ancora un po' di di aiutini, di non sempre chi merita Lavora Beh, detto giusto, meritocrazia è molto esplicito come termine Che cosa ti manca di più dell'Italia? Oltre alle tue montagne, giustamente Italia solo pianura Olanda solo pianura, qua certo Sì, ovviamente anche il clima comunque la famiglia, gli amici le persone che ho conosciuto nella mia carriera d'atleta sicuramente mancano sono in Olanda ovviamente mi sono costruito in questi tre anni qualche amico, qualche relazione però il cuore è sempre... Hai ragione Io sono sempre in italiano e resterò italiano per sempre Dalla Val di Sotto Esatto La fortuna comunque di aver imparato un'altra lingua oltre all'inglese e quindi te la cavi ovviamente anche con l'olandese Sì, sì, diciamo che la logica mi porta a dire lavoro in Olanda l'olandese lo devo imparare lo devo imparare anche bene per poter comunicare con chiunque anche se comunque in Olanda bene o male tutti parlano l'inglese In famiglia che lingua parlate? In famiglia si tenta di parlare olandese ma c'è la tradizione di parlare in inglese tra di noi ma comunque col figlio stiamo... io parlo italiano, lei parla olandese da aiutare il figlio a crescere con due lingue anche perché hai due passaporti quindi per metà italiano per metà olandese è una grande fortuna Stefano siamo in conclusione grazie davvero per la tua presenza grazie ancora per quell'emozione grandissima di Torino 2006 grazie mille grazie a te e grazie alle persone a casa è tutto per questa sera grazie per la cortesia attenzione vi rimando a mercoledì prossimo buona serata grazie a te